Buongiorno e un caro saluto dall'hotel Melià dove si sta svolgendo questa edizione primaverile La cosa importante non è sempre il prodotto ma anche la sua presentazione e l'accoglienza Qui siamo da un operatore professionale, siamo appena entrati, immediatamente capiamo di chi si tratta Abbiamo Audio Plus, abbiamo un cartellone che indica quali sono i marchi distribuiti C'è un'accoglienza e naturalmente in questo caso lo conosciamo, veniamo accolti qui dal nostro amico Grazie, ben arrivati a voi Quello che stavamo dicendo quindi al di là dei prodotti è importante Accoglienza, presentazione, disponibilità di materiale informativo Questo non per insegnare a nessuno come comunicare ma io penso che molti dovrebbero imparare Anche nel nostro settore, grazie ancora Grazie 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 Grazie